Muoversi. Incontrarsi. Condividere. Parole che abbiamo ripetuto tante volte quasi senza farci caso. Poi un giorno, improvvisamente, si sono riempite di significati nuovi. L'obiettivo del trasporto pubblico è offrire la possibilità a tutti i passeggeri di raggiungere il proprio posto di lavoro, di muoversi liberamente in città, di rientrare a casa. Il nostro impegno dall'inizio di questa emergenza è garantire un viaggio in sicurezza, disinfettando i mezzi e le stazioni, prendendo le precauzioni necessarie affinché tutti, dagli autisti ai passeggeri, siano al sicuro. Siamo in un momento delicato. Possiamo farcela solo collaborando, rispettandoci l'un l'altro, prendendoci cura di noi stessi. Ricominceremo a viaggiare in un modo nuovo. Riparti insieme a noi. Riparti insieme a noi.